Qual è il ragionamento spazio-temporale? Il ragionamento spazio-temporale è la capacità cognitiva di immaginare uno schema spaziale e capire come oggetti o pezzi possono inserirsi in quello spazio. Coloro che hanno un dono per questo tipo di ragionamento possono spesso visualizzare come le cose si incastrano, passo dopo passo, e come possono essere manipolate in diversi modelli. Le capacità di problem solving, le capacità organizzative e il talento nel mettere insieme i puzzle vanno spesso d'accordo con questo tipo di ragionamento. Sebbene quasi tutti abbiano la capacità di questo tipo di ragionamento, queste abilità spesso variano da persona a persona. I bambini possono mostrare un talento per il ragionamento spazio-temporale all'inizio della vita. I piccoli che amano costruire con i blocchi, assemblare puzzle, dipingere e suonare strumenti musicali possono mostrare grandi capacità per diversi tipi di pensiero-spazio-temporale. I bambini che assemblano blocchi e puzzle facilmente, per esempio, possono essere in grado di guardare i pezzi smontati e visualizzare come si combineranno. Questo è spesso il tipo di ragionamento che usano architetti, falegnami e scultori. Coloro che mostrano una propensione per le arti visive, come la pittura o il disegno, hanno un altro tipo di ragionamento spazio-temporale. Possono spesso visualizzare un'opera d'arte finita, quindi tornare indietro nel loro ragionamento per immaginare come le e-out e le forme di base si adattino al pezzo di carta o tela. Qualcuno di talento in quest'area può spesso disegnare in tre dimensioni, può facilmente scorgere ombreggiature e fonti di luce e può disegnare tutte le figure di un'opera in scala. Queste persone possono anche giocare con scala e colore perché possono visualizzare come allungare, restringere o colorare qualcosa cambierà il suo aspetto e il significato nel lavoro. Il talento musicale è uno degli usi più ampiamente riconosciuti del ragionamento spazio-temporale. Quelli con questo tipo di talento possono non solo visualizzare le note su una pagina, ma possono visualizzare come la musica per diversi strumenti si adatta insieme. Gli individui che scrivono musica spesso visualizzano le note come un grande puzzle, adattando diverse frazioni di note e si fondono insieme per creare un intero brano musicale. Per alcuni, questo richiede anni di studio, mentre altri hanno un ragionamento spaziale-temporale musicale estremamente avanzato. Gli individui con ragionamento spazio-temporale avanzato spesso lo mostrano nel modo in cui sono organizzate le loro case e le loro vite. Qualcuno con questo tipo di talento di solito mantiene una casa organizzata ed è molto abile nel confezionare scatole, organizzare armadi e mettere via i piatti. Possono anche pulire in modo più efficiente perché possono vedere come muoversi rapidamente in una stanza mentre ancora spolverano tutte le superfici o passano l'aspirapolvere in tutti gli angoli. Queste persone spesso trovano un ambiente organizzato più riposante ed esteticamente gradevole di un ambiente disordinato.